Julio Cortázar una volta disse, se sparisco di colpo nel mezzo di una frase non mi sorprenderò troppo e chissà che non ne guadagniamo tutti. In una narrazione ciò che viene nascosto può avere spesso più importanza di quanto viene esplicitato, perché è lì che talvolta si nasconde il senso più profondo di un racconto, il cuore di una narrazione. È proprio sul racconto breve che lavoreremo in questo corso, dove il non detto vibra in ogni parola e dove sotto la superficie dell'acqua si nasconde un tesoro. Noi ci immergeremo per ritrovare il nostro. Grazie. 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 Grazie.